Ci sono almeno quattro morti e nove persone sono state colpite in una sparatoria in California, Fresno. La polizia ha detto che almeno un sicario si è intrufolato in un cortile e ha aperto il fuoco su una folla di amici e parenti che guardavano una partita di calcio. Le autorità hanno ricevuto segnalazioni della sparatoria intorno alle otto di sera, ora locale. La California, che è una delle leggi sulle armi più severe degli USA, ha assistito a un'ondata di episodi violenti nelle ultime settimane. Giovedì uno studente di 16 anni ha ucciso due dei suoi compagni di classe in una scuola superiore di Santa Clarita, in California. Due sparatorie separate si sono tenute ad Halloween, una in un soborgo di San Francisco e un'altra a Long Beach, a sud di Los Angeles, uccise otto persone.